Ragazzi sono vergognosi, ma non c'è proprio più vergogna ragazzi, non c'hanno vergogna, contro di loro praticamente mai rigore, mai, mai, proprio uno dei protocolli del VAR ragazzi è che contro l'Inter non si può dare il calcio di rigore, invece loro vanno in aria, appena gli metti la mano sulla spalla si lasciano cadere ed è sempre calcio di rigore, un rigore a partita, visto che stanno riuscendo a segnare quello di Ness, ci vuole il solito rigorino, questa è la dimostrazione ragazzi che la FIGC, la FIGC è corrotta ragazzi, questi qua li vogliono far vincere per forza, sono più forti, ma ragazzi ma c'hanno la mafia cinese dietro, c'hanno la FIGC, c'hanno tutto dietro, sono vergognosi, sono vergognosi, non si può dare un rigore del genere ragazzi, ma vincete onestamente qualcosa, non vincete mai nulla onestamente, vergognatevi prescritti, vergognatevi, vergognatevi, se avete un po' di dignità, vergognatevi.